Oggi vi svelo alcuni atteggiamenti corretti della difesa personale. Avendo a disposizione un oggetto da taglio, devo essere comunque in grado di utilizzarlo a mio vantaggio, senza dimenticare il lavoro a mani nude. Quindi, mi copro, aggancio, manipolo, cambio le altezze del lavoro, destrutturo e porto a terra. Successivamente controllo l'opponente immobilizzo e, solo in presenza di un estremo pericolo per la mia incolumità, taglio. Ovviamente, seguimi per altri tre. Grazie a tutti!